Il diario di UTP ad Hannover oggi ti porta a vedere il Neues Rataus, il nuovo municipio della città. Lo storico edificio è stato inaugurato nel 1913 ed è collocato in una posizione diversa rispetto al vecchio municipio, l'Altes Rataus, originariamente costruito nel centro storico di Hannover, dove si trova la Chiesa del Mercato, che abbiamo approfondito in un reel precedente. Come principale sede dell'amministrazione cittadina, il nuovo municipio è sopravvissuto ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e ancora oggi è evidente l'eleganza architettonica dell'edificio, oltre al contrasto cromatico tra la cupola verde e il tetto composto da tegole rosse. Nello spazio sottostante alla scalinata monumentale del municipio sono esposti quattro plastici urbani che ripercorrono la storia di Hannover, dal Medioevo a oggi, passando per le fasi più delicate prima e dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Ti mostriamo anche il Parco Masch, che circonda uno degli edifici più autorevoli di Hannover e dove è possibile fare lunghe passeggiate attraverso la ricca vegetazione e lo stagno. Conoscevi questa zona della città? Segui Urban Take Production in queste settimane e ti racconteremo altre curiosità sulla nostra esperienza in Germania.